...vole affilare le armi per farsi un regalo importante per Natale. Allora Gasperini e i suoi ragazzi, prima della pausa, vogliono raccogliere il massimo dei punti in campionato a cominciare dalla sfida contro l'Ellas Verona per tornare ad occupare almeno il quarto posto in classifica e veleggiare nella zona prestigiosa della Champions League. E da proposito di Champions, i nerazzurri sognano di poter staccare definitivamente il pass per gli ottavi di finale che dopo le prime partite sembrava un miraggio ed invece, dopo il pareggio per 1-1 col Manchester City e la vittoria contro la Dinamo Zagabria per 2-0, si è trasformato in realtà. Per questo traguardo la squadra bergamasca dovrà vincere sul campo dello Shakhtar Donets e sperare che la Dinamo Zagabria non vinca contro la squadra di Guardiola. Per la delicata trasferta in Ucraina, difficilmente Gasperini potrà utilizzare il bomber Zappata, ancora in non in ottime condizioni. Il colombiano non ci sarà sicuramente domani in campionato contro l'Ellas Verona. Un'assenza pesante come quella del centrocampista olandese De Rona, ancora acciaccato, mentre ci sarà Toloi.